Ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video, questo video lo stavate aspettando da una vita ogni volta che vi faccio vedere qualcosa inerente ai capelli ricevo miliardi e miliardi di domande che poi bene o male sono sempre le stesse, quindi questo è un video per fare un resoconto oppure facciamo un aggiornamento tra virgolette rispetto a tutti gli altri video che ho fatto fino adesso sui capelli grigi, sapete che già avevano fatti tantissimi di video riguardo i capelli grigi le decolorazioni, le tinte eccetera eccetera in questo video voglio anche parlarvi di come mi sono trovato con tutti i prodotti che mi aveva mandato Bleach London mi sono dovuto portare una scatola con tutti i prodotti che sto utilizzando per i capelli e sto utilizzando da un bel po' a parte le decolorazioni che sto facendo ultimamente e di cui appunto voglio parlarvene adesso però tutto il resto sono prodotti che io utilizzo da veramente un sacco di tempo se avete visto appunto l'ultimo video dove faccio la dinta grigia, la decolorazione e altre cose non mi ricordo, sicuramente ci sono alcuni prodotti che sono rimasti tra virgolette permanenti nel senso che mi piacciono, che continuo ad utilizzarli una cosa che vi chiedo ragazzi è di vedere questo video dall'inizio alla fine anche se durerà un pochettino, magari cerco di diminuire un po' il video nell'editing però vi chiedo di guardarlo tutto perché altrimenti mi ritrovo un sacco di domande sotto nei commenti a cui magari ho già risposto sia o in questo video o negli altri quindi questo video appunto è fatto apposta per rispondere a tutte quelle domande che mi vengono fatte in continuazione sia qui su YouTube che su Instagram quindi faccio un piccolo recap per chi non mi segue su Instagram allora io ho avuto un periodo, questo periodo appunto circa tre mesi, quattro, tre mesi dai che non ho potuto decolorare i capelli per quale motivo? era successo che appunto l'ultima decolorazione che avevo fatto sapete io come sono fatto nel senso che mi prende la botta di matto e voglio provare magari dei prodotti nuovi anche per cambiare un pochettino tipologia di prodotto, per scoprirne altri, per vedere se appunto mi piacciono o non mi piacciono se possono entrare a far parte della mia routine però ci sono alcune cose fisse che non posso cambiare perché mi trovo talmente bene che se cambio magari rischio appunto di danneggiarmi i capelli e questo infatti è quello che è successo ovvero ho provato due prodotti che tra l'altro l'ho anche portati qui in studio e ci tengo comunque a farvi rivedere per mettervi a conoscenza tra virgolette di questa cosa non vi sto sconsigliando dei prodotti semplicemente vi dico io non mi ci sono trovato per niente bene io la maggior parte dei prodotti li prendo online però c'è questo negozio qui dalle mie parti ogni volta ci vado per prendere solo la decolorazione cioè quindi la polvere decolorante e l'ossigeno e infatti comunque lì mi sono sempre trovato benissimo continuo ad utilizzarli eccetera eccetera ogni tanto lanciano anche dei nuovi brand e dei nuovi prodotti quindi a me piace sperimentare io tantissime volte vado lì magari vedo qualcosa di nuovo e me lo prendo sia se me lo consigliano che me lo sconsigliano qualsiasi cosa non mi interessa cioè comunque mi piace provare l'ultima volta appunto che ci sono andato ho visto questi nuovi prodotti è una decolorazione fatta apposta per il grigio io vi faccio vedere questi prodotti così almeno capite allora c'erano diverse tipologie più che altro della polvere decolorante perché l'ossigeno era questo per tutti e due mentre di questa qui c'era la pasta decolorante non so se conoscete questo tipo di prodotto comunque è sempre un'altra texture tra virgolette un altro prodotto invece della polvere ma è fatta in pasta e appunto c'era anche la polvere queste qui sono fatte in questo modo come vedete sia la pasta che la polvere sono grigie all'interno l'ossigeno questo qui che dovrebbe essere a 30 sì 30 volumi qui io faccio solo decolorazioni a 30 volumi ogni volta che devo fare i capelli grigi o biancastri insomma sempre lisiamo e ne faccio due a 30 volumi come vedete questo qui anche questo è un bel pastone e vi faccio vedere che vedete quanto è denso cioè mentre quello che prendo io di solito è molto liquido penso che lo sentiate quindi una volta che vi ho fatto vedere questi prodotti anzi che questo sono riuscito adesso a farlo uscire perché lo tengo sempre così perché altrimenti è talmente denso che io a volte faccio fatica veramente a farlo uscire e già questo vabbè quindi potete capire che sia questo prodotto che quest'altro sono molto densi come vedete io poi l'ho utilizzato abbastanza cioè non dico che è finita ma quasi perché prima di dare un giudizio a un prodotto preferisco provarlo fino a fondo poi soprattutto per i capelli questi qui sono della retro professional credo si chiami formula arricchita con maltosio protettivo più potere decolorante decolorante in pasta schiariture fino a 9 toni ah mi sono scordato di riportare l'altro mannaggia come vedete appunto le etichette indicano che appunto sono fatte sono prodotti per preparare il capello ad un tonalizzante grigio quindi invece magari di farvi uscire i capelli sul giallo giallo bello acceso come tutti sanno appunto quando si fa una decolorazione questi servono in teoria per rendere il capello non così giallo appunto quindi anche magari facendo due decolorazioni però la schiaritura comunque birerà sempre sul freddo quindi su un giallo più freddo che poi faciliterà la tintura grigia quindi il tonalizzante grigio o comunque un cenere allora che cosa è successo? praticamente ho utilizzato questi due prodotti due volte ben due volte per due volte ragazzi intendo quattro volte perché quando decoloro i capelli ogni volta faccio due decolorazioni a 30 come vi avevo detto a inizio video e poi ovviamente l'ho utilizzato una seconda volta quindi quando dovevo rifare la ricrescita altre due volte per appunto schiarire come faccio di solito e allora già dall'inizio un po' mi convincevano perché comunque erano delle texture nuove dei colori nuovi però dall'altra parte avevo sempre il dubbio che essendo tutte e due molto corposi una volta messo insieme diventa praticamente un mattone allora io non mi sono trovato bene con questi tipi di prodotti per quale motivo? mettendo insieme questi due prodotti quindi l'ossigeno a 30 volumi e la pasta decolorante si crea ovviamente questa pasta molto densa una volta creata questa pasta ovviamente l'andate a mettere o in radice o poco sopra la radice per appunto decolorare i capelli la cosa bella anzi è che non fanno pizzicare non vi fa pizzicare la cute quindi la cute non si irrita proprio perché sono dei prodotti fatti apposta che vanno messi in cute proprio per questo motivo la cosa negativa a quale? è che poi soprattutto perché se li fa da solo ovvero io anzi apro parentesi non voglio non vi sto consigliando di farvi i capelli a casa spiegandogli tutte queste cose vi sto dicendo quello che faccio io che prodotti utilizzo io per lo styling per le decolorazioni come tinte eccetera eccetera perché comunque per chi mi segue da tanto sa che io tempo fa ho fatto 4 anni di parrucchiere appunto ho lavorato come parrucchiere ho studiato come parrucchiere poi ovviamente ho lasciato perdere perché mi sono accorto che non era tantissimo il mio campo non mi piaceva tantissimo come lavoro però comunque c'è uno studio dietro quindi se non sapete niente di capelli se volete appunto provare a farvi i capelli grigi o decolorarvi io vi consiglio sempre di no perché c'è il rischio appunto che vi facciate venire delle croste così grosse rischiate di bruciarvi la cute non vi ricrescono più i capelli in quella zona lasciamo stare a me è successo appunto quando stavo proprio all'inizio inizio inizio prima di iniziare gli studi a parrucchiere mi sono fatto uscire tutte le croste sui capelli se le ritrovo vi metto delle foto qui e ho rischiato appunto di non farmi ricrescere i capelli in quelle zone poi fortunatamente sono ricresciuti però mi sono ustionato la cute solo con dei prodotti chimici perciò chiusa parentesi vi dicevo appunto siccome io mi faccio i capelli da solo questi prodotti sono abbastanza densi io di solito sono abituato con delle texture un po' più liquide per i capelli quindi che significa che quando lo vado a mettere in cute io la maggior parte delle decolorazioni le metto sulla cute direttamente quando sono andato a mettere queste deco sulla testa le ho messe come al solito ho fatto sempre lo stesso procedimento tutto ok quando sono andato a togliere la decolorazione non a risciacquare perché dovevo fare la seconda decolorazione quando sapete che dovete fare due deco non risciacquate mai la prima decolorazione quindi non fate uno shampoo perché l'acqua fa ossidare praticamente il prodotto poi entra nel capello il capello si gonfia quindi la prossima deco che mettete la ributta e fu così che il capello lo buttate perché è praticamente c'è tipo uno scontro perché il capello è pieno di acqua voi ci andate a mettere una cosa chimica sopra e insomma robe strane cercate di togliere quella che avete sopra magari con il retro del pettine quindi non con i dentini l'andate tipo a togliere come se fosse una spatola la togliete e la buttate e così poi potete applicare sopra una seconda deco stavo per fare la seconda decolorazione e avevo visto che non aveva decolorato bene in alcuni punti perché cosa succede? quando una miscela dell'ossigeno della polvere decolorante è più liquida come può essere questo fa sì che quando andate a mettere la decolorazione nel tempo che voi state aspettando che sia mezz'ora che sia 40 minuti che sia 50 minuti questa deco un po' cala quindi arriva alla cute o se comunque già l'avete attaccata nella cute comunque un po' si distribuisce per tutta la testa perché comunque essendo liquida un po' si sposta questi due no perché è una pasta molto densa quindi dove la mettete resta non è stata una cosa positiva per me perché quando appunto stavo andando a fare la seconda deco mi sono ritrovato delle chiazze non decolorate perché ovviamente non c'era finito col pennello il prodotto sicuramente è stata colpa mia però il prodotto nemmeno poteva tra virgolette colare e andare sopra quella parte del capello proprio perché è molto denso quindi non ci arriva mentre con quello liquido ci sarebbe arrivato tranquillamente da solo anche se magari per sbaglio non vado a prendere una piccola zona queste piccole zone da come ricordo io quando facevo il parrucchiere si chiamano mosche queste mosche sono appunto delle parti di capello non decolorate quindi praticamente io avevo alla prima deco tutta la base diciamo decolorata quindi sul giallo e c'erano appunto alcune zone ancora sul castano quindi del mio colore non dico proprio così ma erano ancora castane sono andato avanti perché dico tanto comunque devo fare una seconda decolorazione l'ho ripassata su tutta la testa e ok quando sono andato a sciacquare perché non ne faccio più dei due ho sciacquato i capelli li ho asciugati aprendo il capello ho visto che c'erano ancora delle zone scure quindi dove il prodotto non aveva attaccato e dove appunto non aveva decolorato quindi non potevo ovviamente lasciarmi quelle zone così perciò ho rimesso poco decolorante e poco ossigeno proprio in quantità cioè raga non ha roba così veramente l'ho preso con la punta del pennello una volta fatto questo sono andato su quelle zone dove appunto era rimasta la macchia marrone dopo aver fatto questa cosa ovviamente ho aspettato un totto di tempo mi sembra circa una ventina di minuti 30 minuti sono andato a risciacquare e i capelli si erano completamente spezzati quindi praticamente i miei capelli non hanno retto a questi due prodotti cioè hanno è come se io li avessi sforzati troppo cosa che in realtà io già avevo fatto tempo fa con gli altri prodotti e non mi era mai successa perché magari appunto capitava che ad esempio specialmente in questa zona qui dietro io ok mi metto uno specchio dietro però a volte può capitare di non far caso a delle cose però ecco quando ci ripassavo gli altri non è mai successo niente di che non si sono mai spezzati nulla mentre con questi prodotti è successo quindi praticamente io dato che avevo delle zone scure qui qui e dietro alla testa sono andata a ripassare questa deco in quelle zone e mi si sono spezzati completamente i capelli perciò avevo praticamente due cerchi qui vuoti di capelli perché erano alti così e la lunghezza dei miei capelli è questa e dietro invece si era creato tipo una sorta di alone come quando un uomo ad esempio invecchia che ti si fa l'areola come si chiama si l'areola credo non proprio pelato però i capelli si erano spezzati la premessa io non sono uno che se succede una roba del genere va in panico perché so che potrebbe succedere quindi si mi stava dispiacendo un botto però alla fine dico ok ho provato dei prodotti nuovi è successo questo recupererò in qualche modo ovviamente non subito perché una volta che i capelli si sono spezzati non potete fare niente se non aspettare che ricrescano però su di me che appunto la maggior parte delle decolorazioni le faccio in cute questi due non vanno assolutamente bene vi faccio vedere qual è l'ossigeno che utilizzo io da un sacco di tempo appunto il negozio dove vado io a prendere le cose si chiama Ferrari Maurizio voi sicuramente non lo conoscete perché è un come posso dire una catena tra virgolette che sta solo nella mia zona però appunto è come se fosse un ossigeno fatto da loro diciamo dal loro negozio non è uno degli ossigeni più professionali che possa esistere però io mi sono sempre trovato bene continuo a ricomprarli sono delle bottiglie di ossigeno molto grandi questa qui ad esempio costa 6 euro e 20 la maggior parte degli ossigeni che prendo è a 30 poi a volte magari posso prendere 20 a volte posso prendere 40 per fare delle miscele però insieme all'ossigeno vado a mixarci la polvere decolorante che non ho portato qui in studio mi sono completamente scordato comunque vi lascio qui una foto che tra l'altro l'ho utilizzata anche nel video prima di questo sempre riguardo ai capelli appunto quella è la stessa cosa di questa ma non è in pasta è in polvere e come dice questa che appunto schiarisce fino a 9 toni anche quella solo che quella non è grigia è semplicemente bianca mi sembra però ovviamente la preferisco di gran lunga a questa anche se ragazzi non vi ho detto i prezzi di questi due prodotti questa pasta decolorante costa 24 euro e 15 mentre questo costa 7 euro a confronto di questo che costa 6 euro e l'altra polvere che prendo che costa su 18 mi sembra prima di parlarvi delle tinte grigie vi voglio parlare dei prodotti che mi ha mandato bleach london come vi avevo già detto su instagram io adoro da impazzire i prodotti di bleach london li ho sempre utilizzati adesso cioè quest'anno sono usciti da sefora forse da metà anno quando sono andato al prezzi di sefora hanno presentato anche bleach london e sono stracontento perché prima io lo acquistavo solo a londra quindi ogni volta che andavo a londra facevo scorta dei loro prodotti sono stracontento appunto di collaborare con loro che mi hanno mandato una miriade di prodotti purtroppo me li hanno mandati nel periodo più tra virgolette sbagliato mi sono arrivati nel momento in cui stavo aspettando che i capelli ricrescessero perché si erano bruciati quindi non ho potuto toccare niente riguardo le decolorazioni quindi mi sono sbizzarrito con dei balsami colorati tinte che hanno loro ho variato perché dico tanto devo aspettare questi li posso utilizzare perché sono balsami praticamente colorati anche se colorano molto però non hanno questa botta di ammoniaca fortissima quindi non vanno a rovinare i capelli perciò nel frattempo aspetto che i capelli ricrescano anche perché avevo un colore indecente quindi stavo cercando di camuffarlo in tutti i modi ho utilizzato i loro prodotti due giorni fa appunto stavo a casa del mio ragazzo ho dato per lui a parrucchiere l'ho sfruttato per una volta finalmente qualcuno mi fa i capelli invece di farmeli da solo io ho preparato le miscele dei vari prodotti appunto che mi hanno dato il bleach london e semplicemente me l'ha passato sui capelli infatti ho registrato qualche clip che nel mentre che parlo magari vi faccio vedere in questo video vi voglio dire come ho decolorato i capelli con i set di bleach london dove all'interno magari c'è la polvere decolorante l'ossigeno i guanti la maschera e queste cose così allora di decolorazione proprio vera e propria ho queste due e poi c'è questo qui che è un tonalizzante bianco grigio comunque è un cenere questa già la conoscevo questa qui è una novità che hanno fatto uscire da poco diciamo perché io appunto quando ho acquistato i prodotti a Londra non l'avevo mai vista o non l'avevo mai vista non ci ho fatto caso ma credo di no cioè credo che sia uscita da poco e si chiama Plex Bleach praticamente è una sorta di Olaplex credo che ormai tutti conosciate Olaplex quindi è un trattamento ristrutturante per i capelli che va aggiunto o comunque già c'è in alcune decolorazioni quindi fa in modo che anche se dovete decolorare 30 volte i capelli non si spezzano io ho sempre voluto prendere Olaplex solo che ho scoperto che Olaplex praticamente è una droga per i capelli droga in che senso che crea una vera e propria dipendenza al capello nel senso che al momento che lo fate è wow magnifico top quando lo smettete i capelli tornano distrutti come se appunto avesse fatto delle decolorazioni senza il trattamento quindi non ho mai comprato anche perché se i miei capelli devono essere dipendenti da un prodotto che poi costa anche tanto forse sta sui 300 euro tutto il set se devo spendere così tanto per dei trattamenti di capelli ce li spendo però che siano duraturi non che se smetto quel prodotto i capelli tornano come prima è tutto un cavolo la differenza fra questi due prodotti qual è? è che qui dentro ovviamente non c'è l'Alex Plex non so se ve l'ho detto ma si chiama Alex Plex c'è il kit per decolorare quindi le due busine di polvere l'ossigeno i guanti e un campioncino della Reincarnation Mask questa maschera è fantastica dopo ve ne parlo di questa maschera io ve ne ho già parlato due anni fa e continuo ad utilizzarla anche dopo due anni quindi immaginate quanto può essere valida in quest'altra invece questo trattamento già è inserito all'interno delle polveri quindi non serve una cosa aggiuntiva ecco questi due è semplicemente che uno ha il trattamento l'altro no però dato che a me hanno mandato anche il trattamento dell'Alex Plex così singolo come se fosse un campioncino qui c'era un'altra parte la seconda parte ce la dovrei avere ah eccola solo che una l'ho utilizzata l'altra no anche se andrebbero utilizzate tutte e due per completare il trattamento dato questo campioncino che appunto stava così ho diviso semplicemente le parti questa parte del trattamento l'Alex Plex l'ho aggiunta alla Total Bleach quindi come vi ho detto prima io per arrivare al grigio faccio due decolorazioni prima quindi schiarisco due volte i capelli ho utilizzato ovviamente tutte e due i set in uno anche se non c'era il trattamento ce l'ho aggiunto io con il campioncino che mi hanno dato nell'altro non ho dovuto aggiungere niente perché già nella polvere c'era il trattamento quindi questa è la differenza fra i due ovviamente io vi consiglio questo vi dico solo che il mio ragazzo si è sorpreso per quanto sono morbidi i miei capelli perché si è sempre lamentato i tuoi capelli sono così i tuoi capelli sono quella in realtà no io gli ho sempre detto guarda che i miei capelli per tutto quello che ci faccio sono sani e non sto scherzando ragazzi i miei capelli sono sani anche se li toccate io in questo momento ho l'olio per i capelli la cera la lacca una mousse lisciante c'è e comunque c'è un bel po' di roba eppure sono lisci cioè vedete che passo la mano non sono tutti a mucchiare cioè non sono un pastone di capelli a parte che li ho lavati poco fa e sono stra gonfi però oltre questo i miei capelli sono veramente morbidi e per tutto quello che ci faccio cioè magari un'altra persona con i capelli fini l'avrebbe già persi sicuramente io ovviamente fra questi due non saprei cosa consigliarvi cioè per me sono ottimi tutti e due vi direi questo semplicemente perché dentro c'è proprio il trattamento quindi top allora vorrei solo farvi notare un piccolo neo tra virgolette di questi trattamenti che vanno appunto miscelati alle decolorazioni oppure che magari già sono inseriti tutti questi tipi di trattamenti che sia Olaplex che sia Alex Plex che sia Bella Plex c'è appunto un altro trattamento della Bella che si chiama Bella Plex insomma ce ne sono tanti fanno tutte la stessa azione ovvero di ok risanare i capelli va benissimo però è come se abbassassero un pochettino la potenza di schiaritura quindi che cosa vuol dire che se io faccio una decolorazione con l'ossigeno a 30 volumi questi qui mi rendono la forza di questi 30 volumi come se fosse una 20 o un 25 volumi quindi praticamente schiariscono leggermente meno fanno appunto in modo di non dare una botta di ossigeno troppo forte ai capelli e dare appunto tempo al trattamento di agire bene sul capello di non farlo rovinare di proteggerlo quindi vanno ad abbassare un po' le schiariture ecco se ad esempio la seconda decolorazione con questi tipi di prodotti vedete che i capelli sono ancora gialli molto gialli è normale fortunatamente avevo il white toner anche questo non dovete pesare niente dovete semplicemente mettere tutto quello che c'è nella in questo set insieme e miscelare qui dentro appunto oltre il white toner quindi la tinta bianca in realtà non è bianca è un cenere oltre questa c'è l'ossigeno quindi se non sbaglio dovrebbe essere un 9 volumi cioè un 30 poi c'è un campioncino della reincarnation mask e c'è ci sono i guanti di solito non utilizzo i tonalizzanti in generale cioè all'inizio li utilizzavo però con questo appunto ho dovuto fare il tonalizzante proprio perché con il fatto che c'era il trattamento questo trattamento come vi ho detto prima abbassa leggermente la forza di schiaritura chiamiamola così sto cercando di utilizzare termini un po' più tra virgolette spicci per farvi capire meglio hanno abbassato un po' la forza di schiaritura quindi anche alla seconda deco i miei capelli non sono diventati biondo platino ma erano ancora sul giallino perciò questo cosa significa scusate per le varie interruzioni ma preferisco spiegarvi bene le cose significa che se la prossima volta utilizzerò lo stesso trattamento posso anche aggiungere l'ossigeno a 40 perché comunque me lo spegno un po' ok e quindi è come se stessi facendo una decolorazione a 30 volumi spero di essermi fatto capire questa credo che sia una delle domande che mi fate di più ovvero allora io mi sto facendo capelli grigi ma mi rimane questo giallo non so come toglierlo allora intanto io ovviamente ogni volta che finisco di fare una decolorazione quindi dopo che devo sciacquare i capelli alla seconda decolorazione faccio lo shampoo anti giallo o uno shampoo anti arancione anti arancione sono blu più anti giallo sono viola quindi se avete un colore di capelli molto più tendente all'arancione vi consiglio un qualcosa di blu in modo che lo va a spegnere se avete i capelli più gialli che arancioni vi consiglio un shampoo anti giallo allora io vi ho sempre consigliato uno shampoo anti giallo però adesso non posso dirvi cosa sto utilizzando vi dico solo che sto utilizzando un anti yellow quindi uno shampoo anti giallo e un anti orange anti arancione balsamo però non è shampoo questo non ho mai swatchato uno shampoo ragazzi la prima volta scusate se vedete dei swatch un po' così ma ovviamente non sono prodotti che si possono swatchare cioè io l'ho messo qui giusto per farvi vedere le colorazioni allora questo è lo shampoo anti giallo e questo è il balsamo anti giallo o meglio questo balsamo qui lo vedete più blu perché si può utilizzare anche come anti orange quindi anti arancione perciò vi spegne l'arancione del capello quando li decolorate che arrivate a quel punto che state tipo in crisi e dici oddio dove esco con questo colore carota giallo carota ecco quello è il momento perfetto per utilizzare un prodotto del genere ok vi chiedo solo di aspettare un altro pochettino poi approfondirò questa cosa e vi farò un video vi ho fatto vedere questi due prodotti quindi shampoo e balsamo anti giallo perché li utilizzo sempre dopo aver fatto le decolorazioni quindi quando vado a risciacquare la deco faccio lo shampoo e il balsamo anti giallo e poi dopo vado a mettere o un eventuale tonalizzante o direttamente la tinta grigia queste tipologie di shampoo o di balsamo si utilizzano proprio per spegnere il giallo o l'arancione del capello in modo da freddarlo così da facilitare poi l'applicazione o comunque per facilitare il colore finale del grigio ovviamente se li state rifacendo grigi però anche se volete farli color perla o se volete farli sul silver violaceo comunque questi prodotti aiutano tantissimo o comunque li potete utilizzare se volete semplicemente raffreddare un biondo anche se ad esempio avete un biondo troppo giallo un biondo classico classicissimo non perla un biondo classico però lo vedete troppo giallo utilizzate uno shampoo anti giallo e vi va a freddare il capello o almeno io preferisco i colori freddi sui capelli che poi in realtà il balsamo lo vado a mettere proprio alla fine di tutto quindi quando ho già i capelli grigi quindi quando ho già fatto la tinta perché nel mentre che state facendo o la deco o la tinta è consigliato non mettere nessun tipo di balsamo o maschera perché vi fanno una sorta di protezione sul capello che quindi poi non permette alla tinta o al tonalizzante o quel che sia di attaccare bene quindi vi fa tipo da guaina perciò il colore si attacca ma non così performante ecco qualsiasi tipo di maschera qualsiasi tipo di trattamento balsamo quello che volete fatelo alla fine di tutto vi voglio parlare assolutamente di questa questa ragazzi credo che sia una delle migliori maschere che io abbia mai provato insieme alla reconstruction allora questa è la reincarnation ne ho provato un'altra si chiama reconstruction mask una roba del genere di Tony and Guy ragazzi se trovate quella maschera dovete assolutamente prenderla allora non so quale fra le due è la mia preferita questa la adoro perché l'ho utilizzata da un botto di anni però anche l'altra è veramente buona forse preferisco questa proprio perché è specifica e studiata per il mio tipo di capelli o comunque per i capelli decolorati tinti stressati Bleach London mi ha mandato diversi tipi di maschere di trattamenti di balsamo queste cose così ad esempio mi ha mandato anche questa siringa mi ha mandato questa maschera alla birra a differenza delle classiche maschere che vanno tenute 2, 3, 5 minuti questa va tenuta 10, 20 minuti proprio perché va a risanare i capelli un altro prodotto che mi hanno mandato è appunto come dicevo questa siringa che è un vero e proprio trattamento cioè questa è una bomba a mano ragazzi peccato che è piccola perché io ad esempio con questa adesso ci faccio un'altra un'altra maschera e poi basta è uno sciottino di trattamento quindi fate questo vi si risannano i capelli in una maniera incredibile la cosa bella è che con questo prodotto lo vedete e lo sentite che sono risanati io questo prodotto appunto non lavoro richiesto a Bleach London me l'hanno inserito loro nel pacco magari ecco invece di comprarvi questo vi consiglio quest'altro però messi a confronto è molto più forte questa ve lo giuro solo che questo va fatto mi sembra solo due volte a settimana o una volta a settimana insomma non troppo perché altrimenti vi fa l'effetto contrario quindi invece di risanare il capello ve lo ingrassa mentre questa potete fare quando volete non vi ingrassa i capelli non vi li rende pesanti per lo styling è perfetta come vi dicevo c'è anche questa qui che è una maschera alla birra e adesso tutti i prodotti che mi ha mandato Bleach London non li ho portati qui in studio anche perché sono troppi in questo video vi sto facendo vedere le cose che ho utilizzato di più ad esempio fra questa maschera e questa maschera ogni tanto le alterno questa è semplicemente una maschera normalissima alla birra non so se lo sapete ma la birra come ingrediente negli cosmetici o nella skin care in quello che volete è veramente una mano santa e infatti sono contento che abbiano fatto questa maschera alla birra hanno fatto anche lo shampoo che vi ho portato qui perché è uno dei prodotti che sto utilizzando ovviamente non profumano di birra la mia paura iniziale era che fossero gialli in realtà no sono giallini trasparenti perciò non mi vanno a colorare il capello di giallo ad esempio perché chi decolora tanto i capelli sa che qualsiasi cosa va a mettere sopra prende il colore cioè i capelli prendono il colore di quella cosa se io ad esempio adesso ho davanti una tinta di giuliana se io andassi a mettere questa sui miei capelli qui la lasciassi tipo per 5-10 minuti questa ciocca qui davanti sarebbe di questo colore comunque perché sono talmente vuoti all'interno ovviamente che assorbono tutto quello che vado a mettere sopra ultima cosa che voglio farvi vedere che tra l'altro è una delle cose anche più richieste quale tinta grigia utilizzo questa domanda io non lo so quante volte mi è stata fatta la tinta che utilizzo che vi ho fatto vedere anche negli ultimi due video se non ricordo male non sono nell'ultimo e che continuo a utilizzare che mi piace un sacco è questa qui come vedete faccio la scorta di questa tinta perché mi piace un botto in realtà faccio scorta anche perché ci mette più di un mese ad arrivare dato che io la prendo da ebay e quindi ogni volta si faccio scorta per non stare ad aspettare ogni volta questa tinta sappiate che se la cercate online non si trova cioè se scrivete il nome di questa tinta non la troverete mai vi metto io il link qui sotto che comunque non è né affiliato né altro però sono quei prodotti talmente difficili da trovare perché io la trovai tempo fa tra i correlati dei correlati dei correlati e l'avevo presa così a caso dico vabbè dai proviamola mi piace un sacco mi è piaciuta un sacco perché è l'unico grigio come potete vedere che non vira né al celeste né al viola né al verde né al giallo grigio come questa felpa è grigio non ha nessun sottotono rimane tantissimo per anche svariati mesi io riesco ad avere questo colore anche per due mesi poi è una valida alternativa anzi validissima alternativa alle mie amatissime color freedom le metallic glory quelle tinte sono pazzesche solo che online non ci sono cioè o meglio ci sono ma costano 40 euro cosa lì invece quando vado a Londra le compro a 9 euro circa vabbè ovviamente ve lo converto in euro comunque stanno sui 9-8 euro una cosa del genere perciò capite bene che 40 euro e 8 euro c'è una bella differenza ecco perché appunto non le prendo più online una volta ce li spendevo però adesso ho deciso di non spendere 40 euro per una sola tinta e magari appunto mi prendo questa che è un'alternativa validissima queste tinte non costano niente anche perché non so se sono delle tintasiatiche o altro sicuramente non saranno quelle con l'inci migliore del mondo però costano veramente poco e hanno un risultato ottimo sono di questo brand che si dovrebbe chiamare Evans ma non ne sono sicuro Elegant and Euring Conditioning Color Method bla 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 non lo so comunque il colore di queste è 8.11 ultimi prodotti che ho portato qui in studio sono questi tre allora questo in mezzo è uno shampoo che ho ricevuto con un pacco PR di Sephora è della Virtue spero che si legga così si chiama Recovery Shampoo è uno shampoo ristrutturante diciamo e infatti mi sta piacendo un casino adesso voi non vedete dove sta ma vi assicuro che sta tipo qui e lo sto utilizzando da due mesi circa ovviamente anche alternata agli altri però ogni volta che lo utilizzo impazzisco l'odore è pazzesco ha un odore dolce ma quel dolce tipo di donna elegante non so se avete presente rilasciando le mie descrizioni degli odori mi sta piacendo un casino infatti sono contento di averlo ricevuto non conoscevo questo brand e non l'avevo mai provato l'unico prodotto che appunto ho utilizzato è questo e lo sto adorando un altro prodotto che ve l'ho già parlato abbastanza non so se ve l'ho parlato qui su youtube ma su instagram ve l'ho fatto vedere un sacco di volte sto parlando del whipped cream della cioè in realtà si chiama milkshake e il brand è Z1 concept è una mousse per lo styling dei capelli ragazzi a parte che sa di latte è buonissimo quel latte dolce sembra tipo il latte condensato si dice il latte quello concentrato no raga è pazzesco io questa vista consiglio di prenderla perché io non posso più stare senza ogni volta magari anche se devo viaggiare non mi porto il balsamo mi porto questa non mi porto le maschere mi porto questa raga fa tutto cioè questa fa veramente tutto ovviamente è una cosa molto più leggera rispetto ad esempio alla reincarnation mask cioè non va a sostituire questa però per lo styling dei capelli anche se non mettete il balsamo mettete solo questa si asciuga subitissimo perché è come se fosse un balsamo ad asciugatura rapida nel senso avere un bar risciacquato lo potete mettere da capelli umidi lo potete mettere da capelli asciutti potete passarci la piastra subito dopo sensazionale è una mousse adesso non ve la so tirare fuori ha lo stesso beccuccio della panna la panna quella da mangiare io questa qui la prendo cioè in realtà me la prende il mio ragazzo perché dato che appunto lui lavora come parrucchiere nel salone dove lavora vendono questo brand hanno anche questa mousse ed è pazzesca io non ho mai provato una mousse così buona veramente ne ho provate tante ma così mai un altro prodotto che utilizzo tantissimo infatti sta anche finendo sta praticamente qui è questo olio per capelli di martina damex si chiama soft dust petals ne ha fatti due uno per capelli normali e questo qui con il fiore celeste per capelli decolorati di questo faccio solamente due pump sulla mano lo massaggio un pochettino e lo vado a mettere su tutti i capelli l'ho fatto anche prima appunto che mi sono lavato i capelli mi aiuta a proteggerli dal calore appunto della piastra e a renderli leggermente luminosi non troppo anche perché non ne metto tanto e poi anche perché a me l'effetto luminoso sui capelli non piace cioè preferisco più un effetto opaco satinato dei capelli cioè quindi troppo lucido di nuovo perché mi dà una sensazione tipo di sporco so che per qualcuno tutti questi prodotti sono imbarazzanti nel senso che sono tanti però appunto se volete decolorarvi i capelli se volete soprattutto farvi un colore del genere dovete assolutamente dedicarvi del tempo anche perché ogni prodotto ha la sua funzione specifica non potete sostituire magari un prodotto con un altro perché magari tanto fa lo stesso no i capelli vanno trattati in un certo modo cercate di tenerli sani e magari non fate cavolate come le mie che ogni mese volete provare dei prodotti nuovi credo che sia l'ultima volta appunto che provo altri prodotti preferisco rimanere con i miei soliti però che comunque ci vado sul sicuro più che magari andare così alla cieca e provare dei prodotti che non so cosa potrebbero fare poi ai miei capelli quindi detto questo io spero ovviamente di avervi aiutato di avervi tenuto compagnia se avete ancora dei dubbi spero di no comunque scrivetemeli qui sotto nei commenti vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao